Se tu che stai guardando questo video sei una ragazza, una donna, immagina una tennista famosa o una pallavolista o comunque una donna, una ragazza che abbia vinto degli ori olimpici alle olimpiadi, in qualsiasi disciplina, immagina il fisico che ha dovuto costruirsi, le abilità che ha dovuto, le skills che ha dovuto acquisire, fisiche, le capacità, i sacrifici, la fatica e gli allenamenti che ha fatto, immagina anche una ballerina, le ballerine quelle che le vedi sul ghiaccio fare tutti quei virtuosismi, ecco se tu sei, che stai guardando questo video sei un uomo, immagina un paracadutista della folgore, il culo e gli addestramenti che si è dovuto fare per diventarlo, la paura che ha dovuto vincere la prima volta che si è buttato giù da un aereo, la disciplina che ha dovuto seguire dai suoi superiori, il rigore fisico che ha dovuto mantenere in tutti questi allenamenti per entrare in questo reparto, oppure immaginati qualsiasi atleta, ho fatto prima l'esempio di una ragazza, metti qualsiasi atleta, non lo so, uno che fa gli anelli, quelli lì che li vedi che fanno tutte quelle volte sugli anelli, immagina un top gun, uno che diventa un pilota di aerei delle squadriglie più scelte, immagina il cazzo che vuoi, sia che tu sia un uomo che sia una donna, sto facendo tutti degli esempi che potete metterci qualsiasi altro esempio in ambito fisico, l'ambito spirituale, per spirituale si intende semplicemente quello che è dentro di noi, l'ambito emotivo è paro, paro uguale a quello fisico, cioè se tu vuoi lavorare su te stesso, su te stessa, scordati che con uno schiocchio di dita o facendo un corso del cazzo di un weekend con un santone, una santona che spara un po' di cazzate, dice che parla con gli angeli dopo essersi fumata due o tre cannoni, spara delle cazzate senza senso, poi mischia new age con pseudo religioni, con altre cazzate o cosa, scordati che quelle cose lì possano mai portarti un benessere interiore, il benessere interiore te lo può portare solamente un allenamento che è il lavoro interiore che io accenno introduttivamente in questo mio canale, come dico sempre questo mio canale è introduttivo, te lo porta solo un lavoro interiore che adesso non ti voglio scoraggiare, non è massacrante probabilmente come gli esempi che ho fatto a livello fisico perché io non vorrei mai che con questi video mi vedesse che cazzo ne so, una donna di mezza età di 50-55 anni o un uomo di 60-70 dicesse ma allora se bisogna farsi tutto sto culo a questo punto tanto vale che rimango cretino, cioè non ce la farò mai, cioè se Dyer dice che ci vuole bisogna farsi tutto questo culo, no, io queste cose le sottolineo e magari a volte anche le drammatizzo un po' per dirvi che il lavoro interiore è una cosa seria e soprattutto va dedicato adesso lo stesso analogo, perché non può essere lo stesso se riguarda la propria interiorità, la propria emotività, ma l'analogo impegno che viene dedicato a discipline fisiche, cioè quando vai in palestra tu non entri in palestra con l'hamburger in mano, il bibitone di coca cola, ti siedi sul divano e gli dici all'istruttore figo, palestrato, bello come vorresti tu diventare o all'istruttrice bella, figa, snella come tu vorresti diventare, guarda io sto qui, mi mangio l'hamburger, mi bevo la coca cola, ti faccio anche un rutto in faccia, tu spiegami come diventare snella, in forma e hai tante, io ti seguo, stai tranquilla, ti pago anche la retta della palestra, ma sto qua sul divano dell'ingresso, fai tutto il lavoro tu, ecco questa metafora un po', se riesco perché non sempre posso essere simpatico, non sono un comico di professione io, questa metafora un po' tra virgolette ridicola che vi sto facendo, fidatevi che è il comportamento che il 99,9% delle persone adotta in campo psicologico, cioè psicologico, spirituale e di lavoro interiore, cioè il 99% delle persone va da un coach, va o segue, sui vari social, anche a pagamento, un coach, una coach, va da una psicologa, va da un terapeuta, segue dei corsi di mindfulness, cazzo in culo, perché poi adesso si mette tutto con un termine inglese, così fa più scena, perché l'inglese fa sempre scena, voi pensate che Tom Cruise tradotto in italiano sarebbe Tommaso Crociera, ecco, quindi, cioè una parola detta in inglese è sempre più figa di una parola detta in italiano, ecco, si fa tutti sti cazzo di corsi o cosa, ma vi assicuro che adotta la stessa logica cretina in metafora, di cui vi ho fatto l'esempio prima, cioè è come una persona che entra in palestra con un panino, con la salsiccia, i peperoni, le cipolle e la maionese, quelli che fanno lì quei pregiudicati fuori dagli stadi, con quei camioncini, no, sapete, ecco, entra così in palestra, con sto panino in bocca, un birrone, la panza, e vede l'istruttore figo, o l'istruttore figo, e gli dice, guarda, io adesso ti do anche 500 euro al mese, ma mi spieghi come diventare come te, io però non faccio un cazzo, ecco, il 99% delle persone usa questa logica cretina qui, solo che a differenza della palestra, che a meno che tu, che mi guardi, non sia una berrata mentale, non faresti mai, cioè tu non andresti mai in palestra con uno dog di uno street food in mano, masticando, bevendo birra, notando, e dicendo all'ingresso della palestra, fammi diventare figo, figa, io sto qui ad aspettarti e ti guardo, non lo faresti mai, ti sentiresti ridicola, no? Ti sentiresti ridicolo, ecco, invece, con il lavoro spirituale, lo fanno tutti questo, lo fanno tutti, allora tu ti devi mettere ragazza che tu mi stai seguendo, ragazzo, uomo, donna, alieno, qualsiasi cosa, persona che mi stia seguendo, ti devi mettere in testa che quando tu speri di diventare sereno, serena, dentro di te, con due stronzate, magari alleggerendoti anche il portafoglio, ma senza farti il culo, tu stai adottando un comportamento idiota, tale quale, all'esempio, che ti ho fatto della palestra con quello che entra, o quella che entra con il ciccione con l'hamburger in mano e il birrone e il rutto libero, come diceva Fantozzi, ok? Chiudo qui questo video, mettete un like, mettete un commento, sgrillettate la campanellina, fate così, no? Vedete, una passatina, lei poi vi fa sentire tutti i miei nuovi video, vi dà le notifiche di tutti i miei nuovi video che faccio, e iscrivetevi al canale, un saluto, un bacio a tutti, ciao!